Dopo la visita del Vicepremier Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro, alla Treofan di Battipaglia, domani pomeriggio la convocazione dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Con una nota ufficiale sono stati invitati tutti i rappresentanti coinvolti a vario titolo nella delicata questione occupazionale. Nella missiva inviata viene fissato l'importante appuntamento. Incontro Treofan fissato per domani 8 gennaio alle ore 16 presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma in via Molise nella sala, commissioni al sesto piano. Intanto anche l'amministrazione comunale si è attivata convocando il Consiglio monotematico prima del Summit di domani pomeriggio.